ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che porterà il prodotto e se prodotto prodotto caricato da 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 dottore in gomma il primo cos'è la sirena fare tutte le cose tutti tutti aspetta un attimo devo ridere di resettare se no ci rimango dentro fatto un video apposito dove dove l'ho fatto tutto in un pezzo unico il nostro cliente aveva l'esigenza condizione meteorologica mette attraverso questa fessura si è sentito il clacson ovvio perché perché non ci ho pensato quindi non so cosa dire poi mi sono fermato sarà possibile regolare la quantità di aria che andrà aria e quindi l'acqua a pulire raccolta pulire prodotto ora andiamo a guardare insieme la potenza il nostro cliente ha l'esigenza di raccogliere in campo aperto e quindi in condizioni climatiche differenti per questo motivo lo staff della De Pietri è andato a coperture ma che cazzo sta venendo fuori speriamo che questa particolare FR-60 vi sia piaciuta come sempre vi ricordiamo che se avete dei commenti potete postarli qui sotto se no, eh sì, se commenti, insulti come potete vedere noi della De Pietri cerchiamo sempre di sferdire ora grazie a un'altra macchina vi mostreremo la seconda opzione disponibile siamo andati a realizzare questo accessorio per eh, mi sono... grazie a un'altra FR-38 vi faremo domani speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile per farvi capire le diverse differenze disponibili sulle nostre facce raccoglitrici ma si sente tutto questo lavoro qui? ciao a tutti Leonardo da Galetta ok? la seconda operazione di manutenzione aspetta le fantastiche, le fantastiche, quattro, i fantastici quattro